a caccia di tartufi con broccoli luce vediamo se sono state ben addestrate le nostre paperelle e cosa andremo a trovare broccoli luce proprio qua dietro di me che sembra che abbiano sentito qualcosa vi hanno trovato qualcosa sembra di sì però con le luce anche questa volta sono riusciti a trovare un bel tartufo nero